siamo veramente arrivati a questo punto ragazzi si eccoci qua di solito chiedere come state ragazzi però sappiamo già come stiamo e prima di iniziare questo video volevo anche augurarmi che tutti stiano bene precisamente nel nord italia e in tutto il mondo adesso perché ragazzi siamo proprio messi male a questo punto secondo me è buonissimo che siamo in zona rossa non possiamo uscire meglio così ormai quindi ragazzi con tutto questo tempo posso anche fare questo video oggi perché stamattina mi sono svegliato e scrollando twitter ho imparato che donald trump ha fatto un discorso nazionale per il pubblico americano sul famoso corona virus naturalmente lui essendo lui stesso ha detto un sacco di cavolate e ha fatto una brutta figuraccia detto questo io da americano devo difendere gli americani non difendere da lui ma per rappresentare meglio un americano che non è della mentalità di questo uomo quindi per questo sto rispondendo direttamente a quello che dice so che adesso dopo questo discorso gli americani stanno sul cazzo a tutti gli europei per quello che sta per dire quindi mettetevi comodi perché adesso rispondo io a questo video è solo la seconda volta volta che lo vedrò quindi vediamo cosa ha da dire e mi ricordo il primitivo 30 secondi dice solo le cose ovvie quindi andiamo al trentesimo secondo ragazzi iniziamo this is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history i am confident that by counting and can virus in my i am confident that by counting modern history i am confident that by counting and continuing to take these tough measures we will significantly reduce the threat to our citizens and we will ultimately and expeditiously defeat this virus in cui va bene tutto tutto quello che dice è giusto c'è noto soltanto che li manca un po il respiro mi auguro che pure lui stia bene cioè non sono quel tipo di persona che andiamo avanti from the beginning of time nations and people have faced unforeseen challenges including large scale and very dangerous health threats this is the way it always was and always will be it only matters how you respond and we are responding with great speed and professionalism allora fin qui va abbastanza bene a parte l'ultima cosa che ha detto perché ha detto con speed e professionalism con speed col cavolo donald col speed no è un po tardi ormai ma comunque team is the best anywhere in the world spandering with great speed and professionalism our team is the best anywhere in the world our team is the best anywhere in the world at the very start of the outbreak we instituted sweeping travel restrictions on china and put in place the first federally mandated quarantine in over 50 years si ed è per questo che solo adesso in america sta esplodendo pensa veramente questo lui lo pensa davvero che visto che hanno bloccato la cina sono pochi casi adesso in america aspettiamo qualche giorno che comunque adesso in america sta esplodendo però già questo è lui sta cercando sempre di prendere il premio tipo guardatemi quello che ho fatto ho salvato tutti lo fa sempre lo fa sempre e al contrario non prenderebbe mai la colpa e non direbbe mai ho torto ho fatto un errore non è nel suo vocabolario andiamo avanti we declared a public health emergency and issued the highest level of travel warning on other countries as the virus spread its horrible infection va bene ok and taking early intense action we have seen dramatically fewer cases of the virus in the united states that are now present in europe mamma mia avete capito quello che sta dicendo sta dicendo visto che abbiamo preso queste decisioni adesso in america vediamo molto meno casi rispetto all'europa se hai un po di senso si capisce che non è per qualsiasi cosa che abbia fatto lui e adesso dice che l'europa ha fallito di fare questo come posso rispondere solo con delusione ragazzi as a result a large number of new clusters in the united states were seeded by travelers from europe after consulting with our top government health professionals i have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all americans to keep new cases from entering our shores we will be suspending all travel from europe to the united states for the next 30 days allora questo in teoria mi piace come idea ed è anche la cosa giusta sospendere il viaggio dall'europa in america ma nonostante questo non aiuterà abbastanza cioè non farà molto perché già c'è in america nel senso se gli americani continuano a girarsi dentro l'america comunque si espande il virus chiaramente se non è che più persone che la portano dall'europa saranno il problema il problema già ce l'hanno o già ce l'abbiamo però non sono in america quindi questo travel ban non so quanto farà mi piace in teoria l'idea ma non c'entra veramente non c'entra col problema adesso e comunque questo l'aveva registrato mercoledì sera e dice venerdì a mezzanotte quindi in teoria è più di 24 ore di viaggiare ancora e ho visto tipo a parigi c'è il caos all'aeroporto perché tutti stanno cercando di comprarsi un biglietto all'ultimo momento per tornare in america quindi sul serio gli manca il respiro sentite come fa dopo cargo quindi in teoria adesso sta solo dicendo tipo bloccare la roba dall'europa questo ci salverà non funziona così Don non funziona così questo lo devo applaudire quindi sta dicendo che per curare coronavirus non ci sarà un pagamento se ho capito bene forse mi sbaglio però ho capito questo bene va bene quindi sta facendo un po' di cose giuste volevo ricordarvi che nel 2018 ha annullato Donald Trump ha annullato il programma di pandemia o non so come si dice pandemic team quella squadra che lavora per una pandemia ha cancellato quella squadra cioè non esistono più bel tempismo questo non è giusto riascoltate young and healthy people però non è la maggior parte del pubblico americano young and healthy ho letto 45% dell'america è obeso se sei obeso hai molto più rischio capito lo so lo so lo so si meno male poetico poetico questo grande Come sempre, come tutto. Vabbè, quindi vuole fare un programma per aiutare economicamente la gente bene. Fino a qui non ho visto più e penso che la parte in cui l'Europa è tipo dichiararsi il migliore è passato. Quindi non bisogna andare avanti, ragazzi. Però devo dire le mie ultime parole su questa cosa. Trump è fatto così. Vi ripeto, non dice mai avevo torto. Non dice mai è colpa mia. Al contrario, dice sempre senza scherzare e anche credendoci sono il migliore. Quello che ho fatto è stata la scelta perfetta. Qualsiasi cosa che tocca diventa oro. Sono il re di tutto. E se non mi seguite siete stupidi. E se seguite siete dei grandi. Un certo tipo di propaganda quasi. E purtroppo, odio dirlo, ma un sacco di americani ci cascano. Anche perché se sei democratico o repubblicano, basta essere repubblicano e devi seguire questa persona. E' così in America. E mi dispiace che è così. Ma comunque, ragazzi, faccio questo video solo per proteggere il nome dell'America e degli americani. Perché la percezione che non vorrei è che in Europa pensano che tutti gli americani siano tipo come lui, che abbiamo questa mentalità. Ma in realtà non è così. La mia famiglia dicono sempre tipo, Italia è così forte per quello che stanno facendo. Farebbero molto meglio dell'America. Perché in America non prendiamo queste cose sul serio. Quindi, cioè, ci mancherebbe. Mia mamma diceva questo tipo, preferisce lo stile dell'Italia. Anche se poi, in teoria, nel futuro, anche l'America dovrebbe avere una zona rossa in tutta l'America. Quindi, vedremo. Ma ragazzi, ho detto quello che dovevo dire. Spero, come sempre, che vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al mio canale se vi piace il parere di un americano per qualsiasi cosa che riguarda l'Italia. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Peace.